E' morto un poliziotto, Buzz. Un poliziotto. Colpiscilo, fallo cadere! Buzz, calpare! Non parlare, rispondi alle mie domande e questo problema non si riproporrà più. Ti ricordi gli zii, vero Jay? Ciao. Lui sembra ok, ma non è un buon momento per averlo qui. Allora, qual è il problema del mio bambino? Hai paura che mi dedicherò di più a lui? Fai parte della famiglia adesso. Assisterai a delle cose e sentirai delle cose. Che devono restare in famiglia. Noi facciamo il lavoro e lei conta i soldi? I miei ragazzi non hanno donne importanti. Forse è il momento di tagliare la corda. e tradire la mia famiglia. Baby, risolviamo queste cose tu e io, eh? Pensa a questo. I tuoi fratelli non hanno mai dovuto farlo. Mostrami il suo regno. Non facciamo del male a nessuno. Non siamo avidi. Ma a volte qualche regola viene infranta. E in questa famiglia sei protetto. Finché non diventi una preda. Sei un bellissimo ragazzo. Non ci sono segreti in questa famiglia. Non fra di noi. E soprattutto non con me. Non con me. Non con me. Grazie a tutti.